Domenica 8 settembre si celebra la festa di Maria Bambina nella chiesa di Santa Chiara di Adrano per l'occasione verranno celebrate due sante messe alle ore 10 e alle ore 19 e per l'occasione verrà esposto questo dolcissimo piccolo simulacro di Maria Bambina che sorride e che ancora non sa che diventerà la madre di Gesù Cristo. Padre Salvatore Stimoli, allora parliamo di questa festa molto significativa simboleggiata da questa bellissima immagine di Maria Bambina. Ricordo benissimo che facevamo le interviste subito dopo la festa o nel giorno della festa a conclusione della Santa Messa. Da qualche anno facciamo prima questa intervista proprio per risvegliare nel cuore dei credenti la fede anche in occasione di questa festa, una festa di una donna eccelsa perché appunto immacolata fin dal suo concepimento madre di Dio assunta in cielo, una solennità che abbiamo celebrato qualche settimana fa il 15 di agosto. Diceva bene all'inizio noi domenica prossima appunto celebreremo due sante messe e questa è la nostra consueta abitudine bella, non celebrare le feste dei Santi o della Vergine Santissima magari con la preghierina che viene riportata nel retro delle immaginette ma con la Santa Messa perché è la preghiera più alta, nobile e eccellente. Noi ecco il giorno 8 festeggiando questa natività della Vergine Santissima diciamo in forza di quella preghiera che viene riportata nel messale che si trova appunto sulla mensa, all'altare che se la sua maternità ha segnato l'inizio della nostra salvezza perché ha portato nel mondo colui che ci salva con la croce Cristo Gesù, Dio che si fa uomo in lui la sua invece nascita ci porta a quella pace, quella serenità che già esprime dal suo volto il volto di una bambina. Per valorizzare questa dolcissima immagine di Maria Bambina che in questo momento è custodita nella cappelletta del Lecce Omo qui a Santa Chiara, lei ha deciso di trovare un luogo più visibile diciamo dove sempre qui all'interno di Santa Chiara? Sì appunto come ha detto lei nella cappella laterale del Lecce Omo sono quelle parole latine che appunto Pilato pronuncia al popolo ecco l'uomo di cui tanto parlate e nella cappellina è un po' messa di lato e che non si vede siccome noto che c'è tanta tenerezza nei confronti di questa statuetta tanta devozione allora ho pensato di metterla in maniera più visibile in chiesa magari sotto ecco la statua del simulacro del Sacro Cuore in maniera che sia più visibile, più venerata e con il cuore dei fedeli. Tutti potranno vedere questo dolcissimo sorriso di Maria Bambina? No, ogni giorno o comunque tutte le volte che la chiesa è aperta per un motivo o per un altro. Grazie a tutti.